allora buonasera a tutti intanto scusate perché oggi in casa c'è un po di movimento sicuramente sentirete delle voci della musica ma vabbè tempo fa avevo fatto un video circa il mio workflow di base in cui avevo descritto come trattavo le foto a partire dalla catalogazione fino ad arrivare al risultato finale utilizzando due programmi capture one e affiniti foto su quel video è nata un interessante discussione con un utente che mi ha messo in luce determinate cose e mi ha invitato anche a rivedere un pochettino il mio workflow appunto le mie procedure per cui inizialmente chiaramente come sempre diciamo così ho tentato difendere me stesso anche perché sono tuttora convinto che ognuno debba esprimersi nella maniera che ritiene migliore e con le procedure che ritiene migliori quelle che sono meglio per se stesso e che lo fanno sentire più a suo agio però è anche vero che ci sono delle cose oggettive anche perché ci affidiamo a un mezzo tecnico un mezzo tecnologico quindi macchina macchina fotografica computer programmi di fotoritocco che hanno delle potenzialità e anche delle limitazioni che sono abbastanza oggettive per cui ho pensato di provare ciò che l'utente mi stava suggerendo di fare ossia quello di dare un maggior ruolo a capture one che è un programma che io ho utilizzato finora solamente per catalogare le fotografie ovviamente io uso la versione gratuita che si chiama capture one express che rispetto alla versione completa a pagamento è ha diciamo così delle funzioni in meno quelle che andremo a vedere oggi sono accessibili anche nella versione gratuita perlomeno quella che ho io che è quella per macchine fuggifilm quindi per file prodotti da macchine fuggifilm mi aiuta in determinati aspetti del fotoritocco quindi andiamo a vedere subito apriamo capture one qui ho già una foto raw fatta nel mio nella mia uscita di pietra secca come vedete c'è una parte molto luminosa una parte molto buia normalmente che cosa facevo selezionavo la foto poi la esportavo in affiniti foto e la esportavo in formato tiff che ho formato tra i meno compressi però è sempre compresso ma questo ci arriveremo dopo questa foto come come vedete appunto come dicevo ha delle parti molto scure qui no e poi delle parti chiare qui una dei dei vantaggi di avere il file raw è proprio che soprattutto se si ha una buona fotocamera con una buona gamma dinamica qui dentro questo in realtà non è nero ma qui dentro ci sono delle informazioni che aspettano solamente noi per venire alla luce in particolare capture one express a questo a questo questa sezione che è dedicata alle luci e alle ombre quindi si possono abbassare le luci alzare le luci no e come vedete questo slider non cambia la tonalità della della parte interessata in questo caso è questa non diciamo così nasconde nemmeno determinati dettagli ma questo quello capiremo dopo ma soprattutto dove questo programma del meglio di sé almeno per le funzioni che interessano a me è nella gestione delle ombre perché aumentando le ombre come vedete vengono alla luce tutti quei dettagli che invece erano a prima vista troppo scuri per venire alla luce e quindi operando una fase del fotolitocco su capture one express in questo caso si riesce a recuperare una buona parte dell'immagine o quantomeno a elaborare una buona parte dell'immagine senza la necessità per esempio in questo caso di procedere a più esposizioni per per ciò che riguarda appunto il tempo di scatto e quindi la luminosità di termine determinate parti della fotografia ma sfruttando le informazioni presente nel file raw e operando diciamo così anche su su altri su altri valori si può tirar fuori quei dettagli che diversamente durante l'esportazione del file si perderebbero e adesso vediamo come se ci spostiamo su affiniti foto vediamo che questo è il file esportato da capture one come come vedete è uguale cioè è lo stesso è la stessa foto la stessa immagine con gli stessi colori quelli di partenza parliamo con la stessa luminosità il problema è che qui però questa parte ok nell'esportazione il l'algoritmo lo vede come nero non lo vede come informazioni che sono che hanno una luminosità bassa e che però ci sono questo invece viene codificato come nero e quindi quando io vado a ad aumentare le ombre per esempio lui cosa fa me le trasforma in grigio e quindi come come vedete il risultato finale della diciamo così dell'aumento della luminosità nelle ombre in questo caso è un risultato totalmente inutilizzabile e inaccettabile per il semplice fatto che nell'esportazione abbiamo perso del dettaglio abbiamo perso dell'informazione invece operando direttamente sul file raw questo è il risultato cioè il dettaglio c'è è presente è presente nel file soprattutto se disponiamo di una fotocamera capace di catturare il dettaglio nelle ombre soprattutto perché apriamo una piccola parentesi se io brucio le luci come qui in questo caso qui non si può recuperare nulla nelle ombre invece per le ombre invece è sempre possibile recuperare soprattutto se sia una buona fotocamera è per questo che si tende sempre a esporre per le luci cioè magari si fa uno scatto leggermente sottoesposto in modo tale che i dettagli vengano vengano fuori nelle alte luci perché poi è sempre possibile sempre entro certi limiti recuperare i dettagli quindi come vedete questa è il file raw in capture one express in cui ho aumentato la luminosità nelle ombre e questo invece è lo stesso file con lo stesso procedimento invece operato sul file tiff c'è a dire però che Affinity Photo ha anche la capacità di operare direttamente sul file raw infatti lo stesso file importato direttamente come come file raw assume questo aspetto e qui invece nel momento in cui vado a tirare sulle ombre con uno strumento differente perché chiaramente i programmi hanno algoritmi diversi in questo caso qui riesco forse a recuperare maggiori dettagli nelle ombre anche se poi alla fine la gestione del colore è differente quindi la foto viene meno contrastata ma diciamo così mi consente di ottenere magari quello che io voglio magari qui non mi interessa che la foto sia meno contrastata perché magari mi interessa che già così dare più risalto al dettaglio per poi operare successivamente con ulteriori filtri con ulteriori regolazioni magari una foto più contrastata e dei colori più brillanti sono entrambi validi ovviamente come vedete il processo del file raw per i due programmi è differente in entrambi i casi le regolazioni che io faccio sulle ombre una volta che ho terminato di di eseguirle non sono più recuperabili perché nel file nel caso di capture one una volta che ho fatto tutte le regolazioni anche su altri valori è perché chiaramente l'informazione non c'è solamente per le ombre ma c'è anche per i colori per il contrasto eccetera eccetera quindi se mi trovo meglio a effettuare queste regolazioni su capture one una volta che esporto la foto su affinity sono al punto di prima cioè esporto un file tiff che mi consente di fare altri tipi di regolazioni perché è lo stesso affinity photo che mi dà più possibilità però non posso più tornare indietro cioè non posso dire no lavoro è un po più un po voglio voglio meno dettagli e quindi abbasso diciamo così le ombre c'è da dire però che una volta che io ho tirato fuori i dettagli successivamente anche sul file tiff posso sempre scurire certe parti della foto cioè il processo inverso sul file tiff si riesce a fare sicuramente quello che non si riesce a fare è a tirare fuori i dettagli dove il file non li possiede quindi questo è il caso di capture one il file si esporta e quindi si perdono con le informazioni che si hanno nel file la stessa cosa però avviene con affinity photo perché questa qui è una sezione del programma un po come camera raw in photoshop una volta che io opero lo sviluppo il file viene sviluppato secondo le regolazioni che ho fatto e appare diciamo così nella schermata principale come il livello base ecco come la foto importata questo diciamo così spero è stato un video diciamo così molto molto estemporaneo che sentivo di fare soprattutto per ringraziare questo utente che mi ha messo la pulce nell'orecchio e così facendo ha consentito di migliorare il mio modo di approcciare al foto ritocco soprattutto per questi aspetti continuerò ad usare affinity photo capture one è un programma che non conosco parlo della versione completa probabilmente secondo questo 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 utento è anche meglio di affinity photo ma per quello che devo fare io affinity photo per me è un po più semplice e sicuramente costa meno e quindi per il momento non sento la necessità di cambiare questo mio set di software in ogni caso spero di aver acceso una lampadina in qualcuno che magari aveva i miei stessi tipi di dubbio faceva il mio stesso tipo di errore e vi do appuntamento la prossima volta se vi piace quello che faccio mettete un mi piace a questo video o iscrivetevi al canale il prossimo video sarà sicuramente quello di un'uscita e quindi non saranno tutti così noiosi buona serata e alla prossima